Iniziamo da oggi un cammino che certamente è sintonizzato con il tempo che ci apprestiamo a vivere, è un tempo liturgico ma è anche una festa, una solennità come quella del Natale e vivremo queste tappe di riflessione sulla nascita di Gesù illuminati dalla luce di Betlemme proprio qui da San Giovanni Rotondo dove il Natale è vissuto con una certa intensità non solo perché c'è fede ma anche perché Padre Pio amava questa solennità, questa festa di un particolare amore e di questo la nostra TV ve ne parlerà bene, ve ne ha parlato benissimo e ve ne parlerà ancora e sempre. Cosa dire? Cosa ci accompagnerà in questi giorni in cui veramente forse faremo fatica a far emergere ciò che è la sostanza della solennità del Natale e cioè la fede in un Dio che si incamma. È chiaro che dovremmo un po' combattere tra cose buone e cose meno buone, tra il frastruono tipico di queste festività, la stanchezza, ma anche le cose belle. Ci si riunisce in famiglia, si fanno anche pranzi buoni. Devo dire anche che in questo tempo la carità si allarga di più ma mi raccomando che non sia soltanto in questo tempo. Il Natale deve servire a ciascuno di noi per dilatare sempre il nostro cuore ed essere, come dicono i bambini, essere buoni, tra virgolette, non da Natale all'Epifania ma da Natale all'altro Natale, cioè sempre, ogni giorno. Se riscopriamo queste piccole cose nelle nostre famiglie, anzi, laddove ancora questa solennità si festeggia in famiglia, dobbiamo essere felici perché ormai nemmeno più in famiglia si festeggia, si va fuori, si fanno le vacanze, si va al ristorante, ma manca la tavola della casa, la tavola domestica dove comunque la nascita di Gesù si vive ancora, ma prima ancora di più con la cena della vigilia, con la nascita del bambinello nelle case, nel presepe. Avete letto che cosa ha scritto il Papa a proposito del presepe? Questo bel dono che ci ha fatto. Il presepe, proprio partendo da Francesco d'Assisi, diventa un annuncio del Vangelo. È una pagina, non solo una pagina della scrittura, ma è tutto il Vangelo. E allora ci faremo accompagnare in questi giorni da tre sogni. Il sogno di Giuseppe, il sogno di una madre, cioè il sogno di Maria è il sogno di una vergine diventata madre e di una sterile diventata anche lei madre, cioè Elisabetta e Maria. Prepariamoci bene a questo Natale. Io vi aspetto domani. Padri Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.